La Santa Pasqua si avvicina e abbiamo chiesto ai cittadini cosa vorrebbero come sorpresa e dono dall'uovo di Pasqua. Ecco cosa ci hanno risposto. La pace nel mondo. Dall'uovo? La pace nel mondo. Questo è il mio desiderio più grande. Basta con tutti questi disastri, basta con questo spargimento di sangue. Questa è la cosa più che vorrei che uscisse dall'uovo, non solo mio, di tutti. Senza guerra, senza infamità, senza pace e tranquillità per tutti. Io vorrei la pace nel mondo, però tutto l'anno non solo a Pasqua, perché vorrei un mondo diverso. Tutto qua a me è bravo, tutto qua. Potendo la buona amicizia, tutto qua e non andare a essere cattive. E tutto quello che sta succedendo in questi giorni svanisca in un secondo. Questo secondo me sarebbe il regalo più bello. Per la mia famiglia e per tutti, la salute per gli anziani e il lavoro per i giovani. A me mi basta questo. Poi per il resto, sono contenta. Tutte queste brutte cose che si sentono, si dovrebbero togliere di mezza. La serenità è il dono più raro e prezioso ai giorni d'oggi. Tanta, tanta serenità e pace, è solo questo. Pace. Cosa voglio? Eh? Devi essere felice. La serenità dell'uomo.